Sì, come ha dimostrato anche nell'ultima collezione d'alta moda per la primavera e estate presentata a gennaio a Parigi, in cui appaiono il suo stile, la sua misura, la ricerca di tessuti particolari e l'armonia delle forme. Era appena scoppiata la guerra del golfo, ma alla sfilata di Valentino a Parigi c'erano tutti gli europei e gli americani che contano. Tanti auguri Valentino per questo glorioso compleanno. Tanti auguri in una città che non dorme, Tanti auguri che sono il king of the hill, top of the heap. La mia piccola tante, sono freddo, sono freddo. Tanti auguri che sono freddo, sono freddo, sono freddo. Tanti auguri che sono freddo.